Un progetto trasversale con simpatia però per il centrodestra. Il partito delle aziende è nato da poco, da un'idea di due imprenditori veronesi da qualche mese e anche a Brindisi ed è pronto a partecipare al lagone politico che vede il capoluogo chiamato a scegliere il suo nuovo governo cittadino. Il partito delle aziende, che raccoglie al momento 150 iscritti tra commercianti, professionisti e piccoli imprenditori, scende in campo con un proprio candidato sindaco e punta sul noto avvocato Nando De Giosa. In effetti sono stato molto restio inizialmente perché in effetti è un passo piuttosto notevole e che chiaramente porterà via molto tempo alla professione. Però la situazione economica di Brindisi, Italia, d'Italia e mondiale è tale da farmi ritenere che sia necessario l'apporto di ognuno di noi per poter sperare in un momento di crescita da parte della società civile. Noi proponiamo delle piccole cose, fattibili soprattutto da parte dei piccoli cittadini. Proponiamo uno sviluppo di quello che è la piccola imprenditoria in maniera tale che possa formarsi uno strato sociale capace di resistere a quelle che sono le alterazioni del mercato. Un gruppo di lavoro formato da 15 esperti nei vari settori sta stilando il programma per il progetto di città. Un progetto di cambiamento per dare a voce a quelle categorie che non hanno un rappresentante nell'amministrazione cittadina e così hanno deciso di provarci e di metterci la faccia. Ed è un progetto che ha coinvolto tantissime persone, c'è stata una crescita esponenziale per cui siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane, a Brindisi abbiamo avuto un grande successo abbiamo diverse centinaia di tesserati, tesserati veri.